In gergo si chiamano aree critiche. Sono le zone in cui l'attuale rete di distribuzione di media e bassa tensione è talmente sovraccarica da non poter più assumere ulteriore produzione elettrica. Queste aree critiche comprendono diversi comuni altoattesini della Val Pusteria, dell'Alta Val di Sarco, della Val Passiria, della Val d'Ultimo, Sarentino e San Genesio. In una conferenza stampa alla sede bozzanina di Selnet, la società di distribuzione elettrica, che all'inizio del 2011 ha rilevato i 5136 chilometri della rete ex Enel, è stato spiegato che questa criticità è dovuta al fatto che da oltre un decennio, a fronte dell'enorme crescita di produzione elettrica, sia mancato un adeguato programma di investimenti e modernizzazione degli impianti da parte dei precedenti gestori. Questo mancato adeguamento dipende parzialmente dalla situazione precedente, ma nessuno poteva prevedere uno sviluppo così rapido di queste richieste e soprattutto dipende dal fatto che noi, pur adottando determinate correttive, quindi investimenti, abbiamo previsto mediamente nei prossimi tre anni dai 18 ai 19 milioni di euro di investimento, sempre per quanto riguarda la media e la bassa, però riguarda il problema Terna. Terna è il gestore della rete nazionale a livello nazionale e gestisce l'alta tensione. Noi lì non possiamo fare niente se non trovare una possibilità di accordo o modalità di cooperare con Terna in modo che Terna adegui a sua volta le sue linee perché altrimenti anche noi avessimo, non possiamo portare l'energia sulle grandi trasmissioni che è quella dell'alta tensione.